Forse hai registrato? Guarda la mia faccia, non amo le registrazioni. Come fai a imparare a guidare o a nuotare tramite una registrazione? No, perché mi piace guardarti negli occhi, mi piace osservare il tuo movimento oculare, vedere il prima e il dopo, rispondere, interagire con te, darti in base a come sei tu delle strategie, perché non tutti siamo uguali, non tutte le strategie vanno bene per tutti. Quindi io prediligo sempre l'interazione, perché dopo 30 anni che faccio questo o lo faccio bene o non lo faccio. Quindi ti aspetto in diretta con me.